Sì, ne restano quattro che devono schiantare tra di loro e sono... Pussica Splinter X Terminator e Orno D'Orno Terminegger! Ma molla lì! Io vado intanto a comprarmi una fiamma sidrica, che già so che mi servirà alla fine delle battaglie per districare tutte quelle lamiere contorte sbrindellate e avvoltolate! Che orrore! Che orrore! 3, 2, 1... Ed è di nuovo luce verde nell'arena, ma è luce di ben altro colore quella che vede Arnold Terminegger subito attaccato da Pussicat! Hypnodisc è sopravvissuto a un'altra battaglia! Non ci sono più né X Terminator né Termidor 2 e adesso sono i quattro i robot che devono disputarsi! Il trofeo di vincitori del massacro robotico finale! Volano scintille! Pussicat contro Arnold Terminegger e Splinter! Mentre ancora una volta Hypnodisc ha qualche problema di movimento! Intanto è stato aperto da Arnold Terminegger e da Splinter! Il pozzo! È stato utilizzato il pulsante! Hypnodisc è fermo! Nel pozzo! Nel pozzo! Nel pozzo! Per la famiglia Rose! L'umiliazione! Improvvisa! Vicinissima! Fin all'inizio di questa terza battaglia! Ci pensa Splinter! È sull'orlo dell'abisso! È nell'abisso! L'ultimo colpo è nero da Pussicat che nella spinta finisce anch'essa nel pozzo! Ma il regolamento è chiaro! C'è solo un eliminato per battaglia e in questo caso la sorte dell'oblio tocca a Hypnodisc! Grazie a tutti!